Qua siamo nella parte più importante di tutta la progettazione che abbiamo fatto a Trino. Siamo in una delle corti interne che abbiamo ridisegnato e ripensato, ma soprattutto qui alle mie spalle c'è l'unico vero intervento grande e importante di architettura contemporanea, che è il restauro del teatro civico con l'aggiunta di questa nuova facciata, che è un segno di architettura contemporanea inserito nel tessuto antico, medievale e tardo-barocco di Trino Vercellese. Abbiamo lavorato con un'idea di una tecnologia contemporanea, moderna, come l'acciaio corten, che abbiamo usato intrecciando questa specie di tessuto, quasi come se chiamasse una tecnologia antica di lavoro sui vimini, una tecnologia povera di questi territori, anche piemontesi, per disegnare l'ampliamento del teatro civico, che aveva bisogno di spazi aggiuntivi, come spazi di ingresso, di salita, di connessione verticale e di aggiunta di luoghi di tempo libero. Il teatro civico oggi non è più usato come teatro, è usato come luogo di incontro, come luogo di ritrovo per la cittadinanza. Allora noi abbiamo aggiunto questo corpo laterale, che è alle mie spalle, dentro il quale ci sono i collegamenti verticali, c'è una scala sospesa disegnata in acciaio e vetro, che è una scultura architettonica, che dialoga con altre sculture architettoniche, che sono delle scatole di vetro e acciaio anche appese, che sono come dei salottini che escono dalla parte storica del teatro e che entrano quindi nella parte contemporanea, che sono dei salottini, dei luoghi di ritrovo connessi al ritrovo interno. Quindi si è creato una scenografia contemporanea, quasi uno spazio un po' piranesiano, su tre livelli con l'acciaio e il vetro, piuttosto affascinante e decisamente contemporaneo.